Lei diceva intanto che questo territorio è a credito. Sì, questo territorio è sicuramente a credito perché è un territorio che sconta un deficit di infrastrutture, un deficit di diritti civili e sociali anche nella sanità più alto degli altri territori della regione che pure non brillano per qualità delle infrastrutture o per qualità dei diritti sociali e civili garantiti. È un territorio che soffre anche la mancanza di una rappresentanza istituzionale. Per questo sono contento che il Presidente della Provincia e il Sindaco di Crotone stiano collaborando molto attivamente con me su molte questioni che possono essere strategiche per riprendere questo territorio. Una è la sanità ma ce ne sono altre, la Bonifica, gli aeroporti, la 106. Io ho detto che vorrei porre più attenzione a questa provincia, proprio in ragione del deficit di rappresentanza che ha, che ad altre province della Calabria che pure hanno delle difficoltà ma non in misura tale, nella stessa misura di Crotone. Che idea si è fatta di tutto quello che ha ascoltato al tavolo da parte dei sindacati che poi non hanno nemmeno detto molto rispetto a quelle che sono davvero le criticità che vive il territorio? Mi sono fatto l'idea di una sanità, quella della provincia di Crotone, che ha gli stessi problemi che ha la sanità della Calabria ma con un'intensità maggiore. Come capita laddove c'è un deficit che si è in qualche modo stratificato. Per questo forse occorre, anzi sicuramente occorre, uno sforzo supplementare per affrontare questi problemi. Però ho trovato rappresentanze sindacali molto ben preparate sull'argomento. Mi hanno offerto molti spunti, spero li abbiano offerti anche al commissario dell'azienda sanitaria. Sono contento anche della circostanza che questo incontro si sia svolto con tutte le istituzioni coinvolte. C'era Sua Eccellenza il prefetto di Crotone che ha sempre dimostrato grande sensibilità sui temi che riguardano questa provincia, il questore, il presidente della provincia, il sindaco. Le istituzioni, i problemi riescono a risolverli meglio se lavorano insieme alla loro soluzione. Ho detto al Governo nazionale, sia quello di prima che al Governo attuale, che per i medici, ma più in generale per il personale del comparto sanitario, bisognerebbe fare in Calabria quello che si fa giustamente per i magistrati. Se un magistrato viene in Calabria, siccome è zona disagiata, ha dei benefici economici e anche dei benefici di carriera. Io vorrei che un medico potesse scegliere di venire, per esempio, nel pronto soccorso di Crotone, sapendo che se sta due anni nel pronto soccorso di Crotone, quei due anni gli valgono quattro. Forse così riusciremo ad attrarre più facilmente il personale sanitario che manca in tutta Italia. Quindi manca ancora di più nelle regioni che hanno un sistema sanitario poco attrattivo come la Calabria.